Cosa augura ad Arezzo e agli Aretini? Ogni bene è possibile, la fede e ritrovare il verso di una vita serena. Questo l'augurio per il nuovo anno ad Arezzo e agli Aretini di Monsignor Riccardo Fontana, vescovo della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, che nel suo discorso di fine anno ha toccato anche temi di stretta attualità che hanno scosso indubbiamente l'opinione pubblica negli ultimi mesi dalla tragedia dell'archivio di Stato al caso di Fredi Pacini. Un anno dove ci sono state situazioni dolorose, penso ai due funzionari del nostro archivio di Stato. Credo che bisogna riscoprire la fede e allora si viene a capo di tante cose che altrimenti fanno disperare. Il pensiero poi va all'altra vicenda che ha scosso l'intera provincia e le coscienze degli Aretini e non solo. Il caso Fredi Pacini, il gommista di Monte San Savino che ha ucciso il ladro che si era introdotto all'interno della sua azienda. Speriamo che se ne venga a capo con la solidarietà di tutti e che si capisca che c'è bisogno di guardare al futuro, un futuro dove le forze dell'ordine vengano più rispettate, più valorizzate e dove la sicurezza sia affidata allo Stato. Questa è la nostra Repubblica. Così recita la Carta Costituzionale e così sta bene ai cristiani. L'ultima parola resta però una sola, speranza. La città si è ricompattata, il territorio si è dato impegno, si stanno prendendo delle misure che fanno sperare per un anno prossimo meglio di quello che si va a chiudere ora.